allora benvenuti in questo nuovo video oggi vi vado a parlare di un libro che ho finito di leggere recentemente che come avete visto dal titolo è il signore del bosco di massimo pericolo vi vado a dire un po le mie impressioni al riguardo allora innanzitutto partiamo dalla copertina che secondo me è fichissima sia davanti che dietro dietro l'immagine è veramente stupida il libro costa 18 euro ed è stato pubblicato da rizzoli parto col dire che io comunque sono fan tra virgolette della musica di massimo pericolo mi piace molto come artista quando uscì conosci alla sempre pompai quell'album veramente veramente tanto ed è questo il motivo principale poi per cui ho deciso di comprare il suo libro perché volevo sapere di più di come lui come persona e magari trovare diciamo aspetti nuovi della sua personalità in questo libro ho opinioni molto positive e qualche cosa che non mi ha del tutto convinto adesso vi vado a dire il perché per quanto riguarda la parte scritta il libro è scritto molto bene sono sicuro che lo abbia scritto lui ovviamente poi come ogni libro viene rivisto da esperti del settore ma la sostanza sono sicuro sia stata scritta da massimo pericolo e questo libro permette in qualche modo di conoscerlo meglio come personalità già dalle sue canzoni si vede che è una persona molto intelligente e molto sensibile soprattutto per il modo in cui scrive delle tematiche di cui tratta e grazie al libro siamo in grado di capire meglio determinate rime determinati contesti e determinati persone che hanno fatto sì che la sua musica si sia evoluta così come si è evoluta quindi da un punto di vista di conoscenza del personaggio questo libro aiuta veramente molto c'è ad esempio la storia di lui che va in cina i motivi per cui è andato in cina parla anche di situazioni molto delicate come il suo rapporto di amicizia con una sua amica che poi successivamente è venuta a mancare io ora non vi spoilero niente del libro se volete saperne di più insomma acquistatelo e parla della sua depressione di rapporti con determinate ragazze parla del carcere che era comunque un argomento che a me interessava molto e sul quale volevo sapere di più quindi parla molto di se stesso massimo pericolo in questo libro e ne parla veramente bene diciamo è sincero è aperto e come ho già detto ci dà la possibilità di conoscerlo meglio una cosa che in qualche modo non mi ha convinto comunque mi ha un po non deluso perché pare brutta la parola deluso però mi ha un po lasciato col col dubbio è il fatto che probabilmente rizzoli per dare corposità al libro che comunque sono più o meno 200 pagine qualcosa anche di più ha inserito molte immagini nel libro all'inizio diciamo sfogliandolo così prima di iniziare a leggerlo ho pensato fosse un'idea fica ed è un'idea fica inserire delle immagini ma arriva un determinato momento del libro in cui ce ne sono veramente tante ma come una quarantina una cinquantina di immagini di fila che sono anche belle e tra l'altro ci sono delle piccole descrizioni fatte da amici colleghi di massimo pericolo in cui vanno a dire quali erano le loro emozioni in quel momento in cui la foto è stata scattata quindi l'idea è anche fica però mi aspettavo vedendo un libro così corposo che se ci fossero immagini ma non così tante semplicemente questo è la mia nota negativa del libro inoltre van insomma massimo pericolo nel libro parla di rapporti con speranza ugo borghetti barracano che da ma ci sono anche delle genesi dei testi ad esempio quello di scacciacani quindi come è nata la canzone ci sono veramente tanti spunti interessanti nel libro per capire meglio la sua persona e per capire meglio la sua musica quindi per trarre le conclusioni a me personalmente come libro è piaciuto molto o comunque è piaciuto lo riacquisterei senz'altro sia perché è un libro più che valido e sia perché comunque massimo pericolo è un personaggio che un personaggio è una persona che rispetto perché nonostante tutta la sofferenza che abbia vissuto nella vita è riuscito a sfruttarla per costruire qualcosa invece di lasciarsi andare secondo me le persone che riescono a fare determinate cose in determinati ambienti in determinati contesti meritano rispetto non è che lo meritano mi viene automatico apprezzarle e supportarle quindi ricomprerei il libro lo rileggerei con piacere e io personalmente ve lo consiglio poi se è il vostro primo libro che leggete magari la sua musica o la sua persona neanche vi interessa più di tanto come prima lettura magari non è il libro adatto a voi insomma invece se volete sapere di più di chi è alessandro vanetti di chi è massimo pericolo compratevi questo libro perché ne vale assolutamente la pena detto questo io vi mando un bacio un saluto spero che il video vi sia piaciuto se è così mettete mi piace iscrivetevi al canale se non è così non mettete mi piace e non iscrivetevi al canale noi comunque ci vediamo a un prossimo video perché quelli arriveranno sicuramente e ne arriveranno molte recensioni sto leggendo molto sto vedendo tanti film quindi arriveranno un sacco di recensioni bella non mi sposo così scopo sempre voglio solo una vita decente